lingua delle voci italiano lingua del gioco italiano sottotitoli sì andiamo avanti andiamo ok no grazie andiamo a farcene dai ehi amore beh ecco volevo solo salutarti velocemente e dirti che ti amo tanto oh indovina un po' sarò di ritorno a casa molto presto evviva che culo non vedo l'ora di farla finita con questa storia della babysitter e di tornare dal mio amato marito mi manchi tanto ora devo tornare al lavoro sappi che ti amo etan mi manchi molto ti mando un mare di baci ti amo tanto ciao amore etan si è vero ti ho mettito non avrei dovuto ma quello che posso dirti è che se troverai questo stanno lontano le ultime parole famose mi sa che io ti alza un po' l'audio pronto? ehi sono etan ehi etan tutto bene sei sparito l'altra sera si va tutto bene però mia non è morta lei è viva è tornata l'hanno trovata ma come sul serio io non lo so ma è tornata non so come ha fatto ma è tornata forse è uno scherzo vuole che la raggiunga ma lei dov'è? Dalvey Dalvey Louisiana merda ma sono passati tre anni lo so ma se invece fosse davvero lei voglio scoprire qualcosa in più bravo bravo vuoi scoprire qualcosa in più questo è il posto obiettivo sbloccato 20 punti ancora viva vai in Louisiana guarda il tuo obiettivo trova mia documenti nessun documento chiudi ah che bella casa chiusa corri la ragazzo laggiù c'è la ragazzo laggiù Che bel posto, che bel posto, che bel posto, chi è quello, è sparito? E' sparuto, i corvi, chiuditi, si chiuditi, abbassati. Obiettivo sbloccato, 10 euro, scopri qualcosa esaminando un oggetto da vicino. Mail di mia, patente di guida. Bello. Bello. Cazzo. Che schifo le blatte. Chiuso. No, non posso usare un cazzo. Cazzo. Bello. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Saltiamo Allora Qui Non funziona E' un'altra della cassetta Qua? Chiuse Casa abbandonata Bu Ma dove l'hai trovato? C'è un taglio, Pete Ehi Lavoro coi professionisti A proposito Controlla che l'audio funzioni Non voglio un nuovo amarillo Ma è una storia di due anni fa E non mi doppio Quello nuovo? Non mi piace Ancora? Non ti stupire se dovremo rimpiazzarlo Piano B Apriamo Filmiamo l'interno E poi parte l'entro Come sempre insomma Però Di il nome del programma stavolta Tranquillo Stasera su Ergators Un altro posto del cazzo inutile Felice? Deliziato Vedevamo Vedevamo l'ora Vedevamo proprio l'ora Che sta? La casa dove sono arrivato io Cominciamo E ce la puoi fare, eh? Dopo di te Allora perché? Siamo scesi all'inferno? Ti prepari mai? Cosa abbiamo? Casa schifosa? Rumori strani? Uh, è stregata? Che cazzo? Era un presentatore io Sostituto Peter Secca, ragazzi, questo Au E basta Non per cazzo Manco poco, eh Fattoria abbandonata Una famiglia scomparsa E forse un delitto Il solito Da quanto hai detto Che è abbandonato? Tre anni Clancy Filma questo Ottimo inserto Quindi Questi contadinotti scompaiono I baker non dei contadinotti Jack e Margaret Gente tranquilla Non arretrata Girano brutte voce Sul figlio Lucas La pecora nera Ma Merda Sapevo di dovermi mettere le altre Che cazzo hai Un becillone Oh Merda Sono vaccinato Comunque È un gran bello sfondo Andre Che dici? Andre? Andre è andato Andre Andre Ehi Clancy Hai visto Andre? Dov'è? Oh cazzo Non posso crederci Non lavorerò mai più con lui Alla fine I produttori Vanno e vengono Ma un buon cameraman Come te? Resta vicino Cos'è stato? Ho sentito? Ho sentito? Andre? Dove cazzo è? Andre dove sei? Che diavolo? Che diavolo Troviamo Andre E poi ce ne andiamo Ma dai Pensavo di rimanere Forza 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 è coraggio Andre Cristo Sì Dai Ce la puoi fare Pian pianino Vaffanculo Dannazione Vaffanculo Dio Ce la puoi fare Pian pianino Mia Mia Che cool Madonna Che capelli brutti Stai bene Tu non dovresti essere qui Ma che puoi dire Mi hai contattato tu No non sono stata io O forse Qualcuno ti ha visto entrare Lui ti ha visto Lui Ma c'è qualcun altro Che diavolo succede qui Sta arrivando papà Dobbiamo andarcene Papà Dobbiamo andarcene adesso Sta psicopatica In vacanza Vuoi dirmi cosa sta succedendo Ti ho creduta morta Per tre anni Tre anni Sei sicuro di quello che dici? Sì ma muovite però Dai Su Ma che posto è mai questo? Che ti hanno fatto? Non adesso Dobbiamo trovare una via d'uscita Forse da questa parte Che bel posto Schifo Mia Noi dobbiamo parlare Il messaggio che hai mandato Credimi Quello non ero io Ma l'hai fatto Non sono stata io Ok D'accordo Ma dimmi che sta succedendo Ti sto dicendo tutto quello che so Giuro Dobbiamo andare di qua Mia Sai dove stiamo andando? Qui la famiglia mi passava da mangiare Sì me lo ricordo Cioè questo è stato da tre anni A casa di sti matti Mazza Bella vacanza si è fatta Marco due ma C'è solo questa Ricordo la stanza C'è un'altra porta Ne sono sicura Non c'è più È sparita È sparita Saremo una famiglia Ora che tu sei qui Bello Sono sicura che ci sia un'altra porta Mortacci tua Mortacci tua Mortacci tua Che culo Che culo Che culo Piove pure C'è un cazzo Così chiude la porta Mappa Entrata sul retro Questa è entrata Dove sono entrato io Secondo piano Soffitta C'è la Va bene Va bene Allora Stai calmo C'è un cazzo C'è un cazzo Quella pazza C'è un cazzo Ah che bei rumori Mortacci tua C'è un cazzo C'è un cazzo C'è un cazzo Sei fortissima Stronza De merda Le spingi Stronza Mortacci tua Oh Am I Ficc Oh Am I Ficc Oh C'è un cazzo Riesco Riesco a sentirla Riesco Io Riesco A sentirla Id System Dentro Il mio corpo Madonna Miam Miam Lasciami Star Sta bene Sta in forma Ciao Che Tra American Che Sono Stronza C'è un po' di più! Lascia dai Soccola Soccolona Telefono 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 Non saresti dovuto venire qui Chi sei? E che cazzo succede? Mi chiamo Zori Forse puoi uscire dall'attico Attico Adesso vai, subito Ne sono andata Andiamo l'ascia E' un po' Sì. 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 Intanto andiamo a salvare. Abbiamo una salvata. Sì. 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 L'apositivity. Sì. 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 boh ok lo salviamo pure lo salviamo lo salviamo lo salviamo lo salviamo madonna come se lamenta brutto boh no basta